Sempre 15 marzo 2013, sono le ore 20.05, il gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle è arrivato stamattina alle 9.30, si è messo ordinatamente in fila davanti all'ingresso che è aperto alle ore 10, ci siamo accomodati, dalle 10 alle 20 praticamente abbiamo fatto tre voti, abbiamo messo tre nomi, beh è stata una giornata veramente molto produttiva, un vero schiaffo ai lavoratori italiani e un vero schiaffo alle persone che stanno perdendo il lavoro ogni giorno, che sono in cassa integrazione o gli esodati. Quindi queste pratiche feudali con questi cerimoniali obsoleti che fanno perdere tutto questo tempo quando noi dovremmo essere invece concentrati e produttivi su leggi, emendamenti, rimettere di nuovo il Parlamento al centro dell'attività legislativa, riportarlo al centro dell'attività istituzionale di questo Paese, dovrebbe essere il nostro primo obiettivo e non passare una giornata di 10 ore per mettere tre nomi alla fine. L'unica cosa buona, rilevante della giornata è che il gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati, Movimento 5 Stelle e anche al Senato è un gruppo assolutamente compatto, abbiamo votato tutte e tre le volte il nostro candidato perché noi avevamo un candidato mentre gli altri non avevano neanche un nome e niente, loro non so che faranno queste sei, questa notte probabilmente la passeranno in furiose trattative e furibonde telefonate notturne, noi staccheremo i nostri cellulari con tranquillità con tranquillità e dormiremo tranquillamente, sognando schede bianche, no sognando il nostro candidato presidente, chissà domani magari avremo una buona notizia per tutti noi, ciao buonanotte buonanotte